we bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi come ogni volta patch 13.30 cerchiamo di capire tutti i leaks cosa è stato inserito e che cosa hanno trovato devo già dirvi una cosa ragazzi le macchine aggiornate alle 10 e 44 del 21 luglio ancora non sono state trovate nei file di gioco però sono state trovate tantissime nuove skin outfit bundle e chi più ne ha più ne metta un aggiornamento ragazzi per il lama robot dovrebbe essere è stata aggiunta una nuova variante quindi potreste trovarla all'apertura di fortnite andiamo subito su una nuova skin che invece farà parte di un bundle estivo molto molto particolare non vi preoccupate che fra pochi secondi lo andrete a vedere insieme a lei una delle più belle devo dire skin inserite in questa patch 13.30 la pili quindi la banana senza i vestiti senza la buccia davvero molto bella arriva finalmente il dammys quindi confermata la skin del del omino dei crash test che avevamo già visto in una schermata di caricamento e che avevamo già visto in pezzi dentro la mappa nei cassonetti ancora proseguiamo con una serie di skin che di rarità dovrebbero essere rare e comuni come vedete semplicemente degli outfit con dei restyling mentre le espressioni sono assolutamente uguali e qua cadiamo un pochettino nella monotonia dove si vede chiaramente che la base della recon expert è stata ricolorata sia per quanto riguarda la capigliatura che per quanto riguarda il vestiario andiamo invece avanti con una nuova skin finalmente diversa capigliatura molto wild septum verde nero davvero carina davvero carina così come è carina questa che dovrebbe essere l'ultima skin che fa parte del bundle estivo intanto vi ricordo che per chi non avesse ancora scaricato la patch siamo a 1.7 giga su pc 3 giga per xbox 2.54 per playstation 1.77 per mobile 5.44 per nintendo switch quindi tanta tanta roba e proseguiamo ragazzi con le ultime skin gli ultimi outfit ne hanno aggiunti davvero una marea e purtroppo abbiamo tanti outfit ancora da vedere in game ecco qua ragazzi l'immagine ufficiale del nuovo bundle come vedete corredato da tre backpack ci saranno però anche dei picconi come vedete abbiamo il povero gnomo che verrà utilizzato purtroppo per distruggere tutto ciò che ci capita e non si è ben capito se quei tre oggetti sopra la testa di pietra la televisione e la poltrona saranno delle varianti che si potranno utilizzare in questo piccone o altrimenti dei backpack essendo nella stessa immagine sono più propenso a pensare che siano delle varianti andiamo anche a vedere finalmente le immagini in game della galaxy skin vi ricordo nel mio video news di questa mattina ci sono tutte le informazioni per accedere alla coppa del 25 e del 26 giugno non vi dovete preoccupare perché comunque la galaxy la potremo ottenere tutti non è esclusiva per i possessori di android o di galaxy è semplicemente in accesso anticipato questo vuol dire come scritto ufficialmente nelle notizie di epi games che sarà possibile ottenerla poi nello shop con tutto il set e già ragazzi perché ci sono anche gli stardust striker i picconi ci sono e c'è il bel deltaplano celestia e arriva anche un altro deltaplano celestia ho sbagliato a mettere era comunque la copertura arriviamo anche invece a quello che hanno inserito per il compleanno di fortnite 25 luglio terzo compleanno di fortnite per chi li ha vissuti si ricorda che ci sono delle mini sfide che ci permettono di ottenere probabilmente anche questo giro punti esperienza ma proprio ricompense quindi premi oggetti da mettere in collezione nel nostro armadietto si ripetono un pochettino come per quanto successe il primo anno una nuova torta di compleanno ragazzi con il numero 3 sopra una fetta tagliata e anche una skin però questa skin molto probabilmente sarà un eroe di salva al mondo adesso io mi auguro che possa essere in realtà un premio però sono più propenso a pensare che la troveremo invece negli eroi di save the world e andiamo avanti perché arrivano anche tre nuove emote sono scritte in spagnolo quindi sfoderos e lo spagnolos e il primas se chiamas grasil e il secondos out west e il terzo abbrosias il cinturion quindi osè hermano se tu intiendes intiendes se non intiendes non intiendes e andiamo avanti perché presente anche una nuova base musicale va a riprendere il background musicale dell'evento il dispositivo quindi quello che insomma ha caratterizzato il termine della season 2 di questo capitolo 2 tanta tanta roba anche per questo background musicale molto carino da inserire un passaggio veloce per tutti i backpack questo ragazzi è il backpack dedicato alla galaxy il backpack dedicato al dummies questo fa parte invece della skin con le due codine questo non ne ho assolutamente idea se devo essere sincero questo fa parte invece dell'altra skin che è presente nel bundle estivo andiamo avanti con il backpack della ragazza con il septum come avevo anticipato lui invece è il backpack della banana mentre abbiamo anche due nuovi gelati c'è bianco c'è anche rosa ma era spixelato non ve lo voglio far vedere non si è capito bene se faranno parte dei backpack dei consumabili o di un doppio piccone sinceramente non è stata chiara questa cosa io ve lo faccio vedere passiamo invece un attimo alla minimappa perché per quanto ci riguarda ci sono delle modifiche abbastanza importanti nella parte alta a sinistra più precisamente nel quadrato b2 come vedete è sparito il mega vortice quello proprio gigante questo vuol dire che stiamo entrando nella fase dove riemergerà tutta dove emergerà scusatemi tutta la location dedicata ad acqua man a black manta e molto probabilmente anche alla skin mera quindi la parte femminile o meglio la moglie di acqua me ve ne ho parlato due giorni fa in un video facendovi vedere un sacco di cose io credo che con l'abbassamento delle acque riemergerà emergerà tutta questa nuova location che ci accompagnerà fino al termine della season e molto probabilmente anche nella season 3 chiudiamo il video ragazzi molto rapidamente con le coperture presenti nei file di gioco sappiamo quindi che il set del crash damage avrà anche una copertura dedicata ce ne sarà un'altra invece e mi auguro sia animata perché è molto estiva fette di limone sul verde e onde sulla sinistra e per completare invece questa è l'immagine ufficiale della copertura galaxy ottenibile se vincete o se arrivate in buone posizioni nei tornei per terminare il video news ragazzi o meglio il video della patch vi faccio vedere questa skin sapete che cos'è è un nuovo scagnozzo che sarà presente nella location di atlantide quindi ragazzi tanta roba nuovi bot nuovi modi per poter fare punti per poter andare avanti con le schede punti e insomma ragazzi sembra che le auto siano posticipate è veramente un peccato ci auguriamo che magari giovedì con il cambio delle sfide perché in realtà io ho visto già la settimana la settimana numero 6 è una sfida ci dice di mettere benzina in un veicolo a gatto grill sono molto fiducioso che happy games voglia aspettare fino all'ultimo per rilasciare i veicoli che appunto come vi avevo già anticipato cambieranno radicalmente tutto il gameplay saranno quattro avranno ognuno capacità del serbatoio diverso boost diverso resistenza e tanto tanto altro non esponano meno di uno e non esponano più di sette a partita insomma ragazzi io anche per oggi tutta la patch 13.30 ve l'ho detto potrebbero esserci delle piccole aggiunte dell'ultimo minuto le troverete sulla mia pagina instagram xyudor non vi preoccupate vi ringrazio per aver guardato questo video tutti quelli che sono in live su twitch non se ne vadano non me ne sto andando mando solamente l'altro non me ne sto andando noi ci vediamo in live su twitch ciao uzz 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 e c'è un grande problema il video non arriva ai 10 minutini ne mancano 40 di secondi ci sono gli youtuber che mettono le schermate nere ci sono gli youtuber che mandano i gameplay ok ma lo xyuder per arrivare a monetizzare la grande ci canta sotto si canta sotto così almeno vi divertite a sentire il coglionazzo se mi va bene in questi secondi vi arriva a pubblicità a alè alò alè 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 alè